gianna è però servono dei danni secondo me io penso che con con asce basta e non ne faccia abbastanza però gianna bosco metto detto e merdinger per me è forte a questo punto di ok no con senna forse che però abbiamo beccato da parte nautilus senna vuol starci a distanza da tantissimo se vuoi prova xerath se vuoi fare xerath però non so se ce l'hai ce l'ho xerath o lux forse entrambi meglio se voglio che posso tenere la e su una zona giochiamo su vai va bene ash lux proprio la combo del tutorial la combo degli iron minchia è questa brutta che ci saltano tutti addosso però rammus è fortissimo perché ti salta proprio con la rotella con la ulti eh lo so non c'è andata benissimo però in realtà se andiamo letali non è male devi usare bene i portali dobbiamo chiudersi trovando ci provo la combo della carenza e testosterone abbastanza ma non è vero come entrambi pieni ma il succo dei cetrioli sotto aceto si beve beh è aceto non lo so se ti piace va bene allora si va a letali ti confermiamo vado a letali io non sblocco l'hai all'inizio non ha senso vabbè a certo punto si al 13 si ok ci serve a stare vicino a un portale una pianta questa zona controlliamo questa zona la e girl combo senza skin poi guarda proprio il tutorial è che c'è un cooldown troppo alto inizia da w fa cagare un ottimo eccolo presa pianta zona per te una me oh pardon si è proprio ok 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 incredibile mi sono cambiato tutto il set di spell qua all'improvviso come se non la fosse durante il fight perfetto ottimo non so come ce l'abbiamo fatta ma ce l'abbiamo fatta your q gains 200 abilities la q si minchè forte non si avvicinano più due secondi sulla q una fcom gli effetti uniti sti cazzi mamma che schifezze però lo sai che mi stavo muovendo cliccando col sinistro come se fosse balder's gate non capivo perché il pg non si muoveste dai ma perché la e guadagna il 100 abilities ma perché non la w che schifo ho preso che guadagno a d in base all'attack speed che sarebbe fortissimo se buildassi ashton normalmente vuoi buildarla normalmente ma no dai eh no no si perde il fashion dai un po' di attack speed magari se ci scappa non si perde il Ok Ho l'hacko di nuovo Sì Le hash che ho visto vincere il gladiator giocavano con gli Ezreal Ok Stai impazzendo Zenna Devo termine Pts Ok Ma è vero il buffo è tipo il braccio tatuato di Frago Cioè? Che buffo? Mi sono fatto il buffo, guarda Instagram Ah il buffo Sì 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 Sembro Sembro quelli che vanno sul motorino Sullo scooper Il mio padre che c'è il buffo oggi mi ha visto E mi ha fatto Madonna Mi ha fatto Stai benissimo E ho fatto Fra due giorni mi lo taglio E fa no 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 Te lo devi tenere sempre Stai benissimo Che è molto pieno del buffo Non lo so Non lo so sinceramente A me fa solo ridere Io lo taro un paio di giorni E poi lo tolgo Cioè non vado in palestra con Anche io ogni tanto Anche io ogni tanto ci ho provato Però la verità è che a me i buffi Non crescono tanto Quindi non mi stanno bene Poi metà sono biondi A me crescono Però C'ho vent'anni Capito? È tipo È cringe Il buffo secondo me Sì sì Quando ho i tuoi trenta Lo sblocco Tipo Waddle's Gate Esatto Comunque ho preso ability hasty No c'hanno il boomerang Oh ma come l'ho preso? Ok Quindi solo pianta Comunque stiamo facendo Buon kiting Bro ma perché C'ho l'acqua ogni secondo Praticamente Effettivamente C'ho l'acqua ogni secondo Non si muovono Ma se a me usciva A me è uscito su lei Cazzo Se mi usciva sulla W Era game over Eh sì no Lì era veramente È il top del top del top Più che altro Quando ti colo il naso Il buffo è la cosa più fastidiosa Che esista Ma guarda C'ho il septum già Quindi quando mi colo il naso È già fastidioso Quindi Peggio di così Non può andare Sì C'ho una cosa nel naso Guarda Senna Sembro io La scorsa arena Il tizio che poteva morire lì E che si faceva la pianta Io mi sa Cado di Manamune Sì 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 Non c'è nulla Chi di abilità Io penso che Vado Everfrost Sai No bugina no Beh c'è lo Zephyr Madonna Vado lì Andri dai Zephyr poi me lo faccio Ok Fai Manamune Che scaliamo Poi c'è Shojin Che è molto forte Vabbè fai Black Cleaver Serilda Shojin Sarebbe anche il mitico In tutto ciò Farebbe comodo Ecco Eh sì Drakhtar Fai Drakhtar secondo E poi fai tutti Sì Vediamo Su questo lato No su questo lato Vabbè Che tristezza Quanta tristezza Vedono questi occhi Comunque io te lo dico Sto elo è troppo basso Cioè secondo me Eh ma dobbiamo fare le cose stupide Ma ci sta Ho capito ma sembrano disabled Il low elo delle arene E anche peggio Sembrano Perché magari Perché qua li vedi Li vedi direttamente Quindi ad Iron Magari non ti rendi conto di tutti Invece qua Sì Non si possono nascondere Negli altri Io c'ho il permanent Raiden blue buff Io converto la PNAD Non è tutto sto granché Ma guadagno il 10% Di a di dai Meglio che niente A me stanno uscendo Un po' merdose Purtroppo Eh il cosmic Ci sta in effetti Il cosmic è buono Con il fatto che converto tutto Sono 110 di a di Il cosmic In effetti Mi sa proprio che me lo build Vai Cosmic è veri veri Ahia Non fa così ragazzi Tu tu Prendi la pianta Prendi la pianta Anche sopra L'ho presa L'ho presa Aia Tuk Tentiamolo Teniamolo come schiavo Lo schiavo No Si sta ribellando Oh cavoli Oh cavoli Poverini Solo che hanno suonato Anche nasce È vero È vero Ma ro Quanti oggetti Posso farm A sto punto No però La liandre Fa cagare Perché brucia In bas Ah Scala anche a di Eh vabbè Arrivo Mi muto un secondo Presto 25 secondi Cavoli Effettivamente Questo è buono Una bella liandre Eh mi sa proprio Che me la farò Ragazzi Presto Deido Presto Inizia Vabbè Difenderò io Ci sono Ok Tic 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 Vabbè La cosa è di gustosa Mi sa come mai Stavo uscendo così bene Vedi che è fortissimo Rap di Sramus Ma non so Manco pre-made Questi Ma ti sei fatto Leandre al posto di Drakta C'ho la cosa che mi converte E' fortissimo E' fortissimo E' fortissima Adesso mi buildo il Cosmic Drive E' devastante De X E' fortissimo E quanto hai di AP Ho preso tanto Ho cliccato Ho 85 Ho 404 da B Ok Ogni quanto hai la Q Ah Rabadon fa cagare Perché non hai l'amplificazione Ok Ok Tic 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 Oh what Maledetta Vabbè ma io non pensavo fosse così forte Ma ci è andata bene anche con gli augment L'augment di brutto Però io c'ho la Q che stona per due secondi e c'ha 1.96 di cooldown Eh se non si fa antenassi ti è finita per loro Già si è fatto la scappa attack speed vabbè Nel senso Oh guarda che bel fight intenso Niente Lido bisogna rifare i tank Bisogna rifare tipo Alistar Maokai Quelli si che erano belli Adesso ho detto se è nasso o bad Non ho specificato chi ora tiltano tutti Allora io guadagno un sacco di roba Ma non posso usare la ulti Secondo te worth Secondo me si Tanto spammo doppia web e basta Che mi frega se non posso usare la ulti No fa cagare quel buff che ti dà Ah ok Se ne valessa la pena si ma fa cagare Vabbè se da poco no Prendo il cerchio Non servirà a niente ma Cos'è il cerchio? Ah questa cosa fa cagare Io c'ho infinity stacking ability E chiudiamoci in questo punto Chiudiamoci qua Tanto lì c'è il portale Lì su Sionzwe Totalmente inutile Ma qua stanno facendo Ma perché è suscitato 15 volte? Ma è minuscolo C'è una pazzina Teniamo lo schiavo Teniamo lo schiavo Teniamo qua Ma prende troppo danno Pensiamolo con set Vabbè Però Così Non capisco Non si possono muovere Sono schiavi qua Allora Io vado cosmic E vado E vado E nasce tutto è bello Per quello che faccio No gli altri Oh sti cazzi Qui attenta a Senna Ma scettiamo Jax Ma poi muoiono troppo presto Chiediamoci qua sopra Ma do Io c'ho la ulti di Ari Un attimo solo Quello ha tirato la ulti di Nasus Utile Vabbè Ma perché è così facile Non capisco Perché sono troppo scarsi Però Tolo te Qualcosa di più troll Ma anche più divertente Abbiamo già fatto mille di Elo Allora Allora